Bovalino 30 luglio 2011 insieme al professor Bernardo Misaggi, il professore è nato a Gioiosa Ionica, Marina di Gioiosa Ionica, puntualizziamo perché sono due cose diverse, però lavora a Milano. Cosa fa a Milano? L'ho fatto l'università a Milano, mi sono laureato a Milano, mi sono specializzato in ortopedia e adesso dirigo il centro di chirurgia vertebrale dell'istituto ortopedico Gaetano Pini, appunto di Milano. Lei ha sviluppato oltre 2500 interventi, è una bella esperienza. Certo, senza altro, soprattutto oggi con le nuove tecnologie rispetto ai primi interventi sicuramente si riescono a fare e ottenere soprattutto dei risultati ottimi per i pazienti sia come qualità di vita e sia anche come impegno operatorio, nel senso che i tempi chirurgici si sono accorciati, l'adegenza dura sempre meno, è un recupero anche funzionale del paziente e al ripristino delle attività lavorative è sempre più in fretta. Ecco, noi con orgoglio diciamo un professionista della Locride prestato a Milano, ecco, quando torna, come in questo caso, per ritirare un premio, qual è la sua sensazione, la sensazione che vive nel suo paese o comunque nei paesi dimitrofi? Ma io mi sento tuttora un calabrese della zona ionica a tutti gli effetti perché ho mantenuto sempre questo rapporto con la zona in quanto sin dal primo anno che ho iniziato l'attività lavorativa vengo giù in Calabria tutti i mesi a fare un ambulatorio. Di conseguenza ho questo rapporto diretto con i miei compaesani che oltre che mi dà spunto di rivivere i momenti belli della gioventù e di apprezzare ancora la gastronomia nostra rispetto a quelli che non si dimenticano mai. Mi consente professionalmente di dare una mano ai nostri concittadini al punto che nel mio reparto abbiamo una prevalenza di calabresi e pazienti rispetto a lombardi. Ecco, lei questa sera riceve un premio importante per noi calabresi o comunque un premio che si rinnova già da 25 anni. Se dovesse dedicare questo premio a chi lo dedicherebbe? Sicuramente la mia famiglia, i miei genitori che mi hanno consentito di crescere e avermi dato la possibilità di fare degli studi in una città come Milano e quindi arrivare a un risultato sicuramente oggi bello che dà delle soddisfazioni e soprattutto essere utile alla propria gente. Quindi con spirito di servizio proprio verso le persone che soffrono della mia terra, anche loro in parte dedico questo premio. Quindi sono molto onorato in effetti di questo riconoscimento perché mi dà la possibilità di avere uno stimolo in più, in quanto viene riconosciuto questo mio modesto impegno che cerca di essere utile ai propri conterranei. Grazie.